Il bilancio del gruppo Carabinieri Locri è positivo per l'anno 2016. Ieri conferenza stampa a cui hanno partecipato oltre al comandante del gruppo, il talente colonnello Pasqualino Toscani, anche i vari comandanti delle compagnie di Bianco, Locri e Roccella e il comandante del nucleo operativo ed il comandante del nucleo investigativo. L'attività svolta dai Carabinieri Locri a 360 gradi, anche con il supporto dello squadrone riportato Cacciatori Calabria, ha riguardato tutti i settori della vita quotidiana della comunità, spaziando dall'aggressione ai soldi mafiosi alla criminalità comune, ai controlli e ai rastrellamenti nelle aree più impervie e nelle più degradate della giurisdizione, ed ancora agire su controlli agli esercizi commerciali pubblici, sia per il rispetto alla normativa nel settore relativo alla sicurezza, sui luoghi di lavoro e alla conservazione e al commercio delle derrate alimentari, e sì anche sotto l'aspetto dell'ordine della sicurezza pubblica in generale. In tale quadro, ha ricordato il comandante del gruppo Locri, il colonnello Pasqualino Toscani, sono stati effettuati complessivamente 20.000 servizi di controllo del territorio, tra battugliamenti e perlustrazioni, e poi ancora 1.300 servizi di ordine pubblico, in occasione di manifestazioni pubbliche varie, controllati circa 80.000 mezzi, identificati quasi 130.000 persone, ed elevate sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, per un importo complessivo di oltre un milione di euro. Inoltre sono state arrestate 309 persone, di cui 205 in fragranza di reato, e 104 su ordine dell'autorità giudiziaria, denunciate in stato di libertà oltre 1.600 persone per reati diversi, e sono state rinvenute, sequestrate e poi distrutte circa 9.000 piante di canapa indiana, ancora sequestrate 25 kg di sostanze stupefacenti, quasi 300 armi comuni da guerra con relativo munizionamento, e parliamo di circa 16.000 cartucce rinvenute, circa 13 kg di esplosivi. Sospese temporaneamente, con provvedimento emesso dall'autorità di pubblica sicurezza, esense l'articolo 100 del TULPS, le licenze commerciali di 5 esercizi pubblici assolutamente frequentate da persone controindicate, e pertanto ritenute un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e per il buon costume e la sicurezza dei cittadini. Inoltre sono state controllate, unitamente ai Carabinieri del Nucleo Operativo e all'Ispettorato del Lavoro di Napoli, oltre 20 attività imprenditoriali, circa 110 lavoratori, trovando 26 impiegati in nero. Ed ancora elevate sanzioni, sempre nello stesso settore, ed ammende per un importo complessivo di oltre 1 milione e mezzo di euro. E poi una serie di operazioni che hanno portato ai bilanci del gruppo Carabinieri Locri in attivo, bilanci che hanno riguardato l'operazione Confine 2 tra la provincia di Reggio e di Catanzaro, quella Colombiani da Spromonte, le stazioni a luce rosse, l'operazione Dandi, ed ancora l'operazione Satellite da Manera, e parliamo ancora di altre attività nei confronti delle varie associazioni mafiose. Infine i progetti per le scuole che hanno sviluppato nell'ambito della diffusione della cultura e della legalità. I temi affrontati, quelli del bullismo, l'uso responsabile della rete internet, i social network, l'effetto delle sostanze stupefacenti e l'educazione stradale. Era solamente il momento di incontrarci, di vederci tutti quanti, vi ringrazio di essere venuti come sempre. Mi faceva piacere essere qui, siamo al 28 di dicembre, è consuetudine solitamente alla fine dell'anno fare un piccolo bilancio, un piccolo punto di situazione. È altrettanto vero, ed ecco che ho voluto essere presenti qui, anche i comandanti delle compagnie di Locri, di Bianco, di Rocella Ioni, che è il comandante del nucleo investigativo, quindi il gruppo al suo completo. Bilanci, ma in un qualche modo anche momento, come posso dire, di testimoniare ulteriormente alle brave persone che vivono in questi territori quella che è l'opera che svolge costantemente, quotidianamente l'arma dei carabinieri. Ecco, io vorrei in un qualche modo quasi sganciarmi da quelle che sono in un qualche modo le verifiche, i sommi di quello che abbiamo fatto nell'anno, di quante persone abbiamo arrestato, di quante ne abbiamo denunciate, eccetera, eccetera. Questo sicuramente ve l'ho messo in un comunicato che vi diffondo a tutti quanti, ma il messaggio che vorrei in un qualche modo che passasse è un messaggio di prossimità alle popolazioni, un messaggio di vicinanza. Tenete conto che l'arma dei carabinieri ancora, sono passati oltre 200 anni dalla sua fondazione, mantiene i presidi in ogni più piccolo paese. Questa è la forza, la capillarità, la conoscenza che deve avere ogni comandante di stazione, ogni carabiniere nell'adempimento del proprio compito a 360 gradi.